veniamo adesso a una parte che è un po più teorica ma che è fondamentale che cos'è l'azione umana allora questo è citato ad esempio nel catechismo in maniera molto chiara ed è espresso in maniera molto bella su questo libro che già suggerivo tra le pagine 180 e 200 che costituiscono un capolavoro di descrizione di quello che è la libertà umana di quello che è l'atto dell'uomo l'atto dell'uomo è composto da tre dimensioni da tre parti l'oggetto dell'azione le intenzioni dell'azione le circostanze dell'azione tutte e tre devono essere positive perché l'atto sia buono in sé è sufficiente che l'atto non sia l'oggetto dell'atto non sia buono in sé rubare uccidere dire falsa testimonianza per rimanere al decalogo che l'azione dell'uomo è negativa se io osservo un'azione un oggetto che è in sé male posso esprimere un giudizio di condanna un giudizio una valutazione chiedo scusa di condanna dell'atto cioè dire che quell'azione è sbagliata senza incorrere nessuna penalità in nessuna minaccia da parte di dio quando gesù dice non con non giudicate per non essere giudicati non sta dicendo che non dobbiamo fare valutazione sta dicendo che non dobbiamo condannare gli altri usa il termine giudicare in questi termini perché lui stesso giudica spesso e volentieri nel vangelo ma poi fa scendere la sua misericordia nei confronti del perdono quando questo perdono viene chiesto quando non viene chiesto come nel caso dei farisei lui in qualche modo minaccia in qualche modo fa presente che queste cose sono sbagliate circostanze e intenzioni contano ma soltanto per attenuare quello che viene fatto oppure per cambiare il segno di quello che viene fatto se l'atto è positivo camminare in sé non è un atto negativo è un oggetto buono è un oggetto positivo ma se io sto camminando per trovare il momento migliore per derubare una persona le intenzioni rendono l'oggetto cattivo se io rubo perché sono povero e le mie intenzioni sono di sfamare la mia famiglia sicuramente avrò un'infinità di attenuanti ma queste circostanze e questa intenzione non modifica l'atto che è cattivo in sé quindi se io vedo qualcuno che ruba a prescindere da quelle che sono le sue condizioni sta sbagliando sta commettendo un peccato sta commettendo poi in alcuni casi anche un reato ma questo non è il punto stiamo parlando di peccato poi può essere scusato in tutti i modi possibili ma ciò che ha fatto è comunque male quando oggetto è in sé è male l'azione è male e questo io lo posso valutare tranquillamente grazie mille